ora vediamo un prodotto che non ha bisogno di particolari presentazioni nel senso che penso che tutti quanti più o meno le abbiamo già maneggiate nella vita sono le classiche batterie a bottone in questo caso sono le 2450 che sono quelle che si utilizzano sui telecomandi normalmente delle auto niente di particolare non c'è molto da dire le batterie sono le classiche al litio sono batterie da tre volte la sigla comunque indica appunto le cr2450 l'unica cosa normalmente importante è la data di scadenza che in questo caso è 12 2033 oggi siamo al primo di ottobre del 2024 per cui direi che dovrebbero anche durare un po di tempo il prezzo era buono per cui l'ho preso io l'utilizzo sul telecomando delle auto aziendali ma dipende veramente dall'auto e dal telecomando e da mille altri fattori però è un prodotto abbastanza economico ci sono anche i prodotti più costosi di marche sicuramente più famose di queste ma normalmente hanno per esperienza non più o meno la stessa durata per cui direi che visto il costo di questo che normalmente pari al costo di una singola batteria di marca direi che ci può anche stare al massimo si cambia una volta in più va bene vi lascio il link in descrizione e vi invito anche lasciare un like al video se vi è piaciuto vi è stato utile e se avete voglia iscrivetevi diciamo se vi piacciono contenuti di questo tipo restare comunque aggiornati sulle novità di mercato grazie e alla prossima